Il video di oggi è dedicato a prevenire l'insorgere del mal di gola. Benvenuti al nostro canale salute e longevità. Investi nella tua salute oggi per godere della tua longevità domani. Con il cambio di stagione, può essere frequente l'insorgere della faringite, conosciuta più comunemente col nome di mal di gola, uno stato infiammatorio che colpisce le mucose di rivestimento della gola, causando una sensazione di bruciore, difficoltà di deglutizione, e talvolta dolore anche intenso. Si tratta di un disturbo che può essere passeggero, e se trascurato, può perdurare nel tempo. Vediamo insieme alcuni consigli per prevenire il mal di gola, ed evitare la comparsa dell'infiammazione. Lavaggio delle mani. Per evitare l'attacco di batteri e virus, come quello dell'influenza, lava spesso e allungo le mani con acqua e sapone per rimuovere i germi. Se non hai a disposizione acqua e detergente, utilizza dei prodotti disinfettanti adatti alla pelle. Igiene orale. Mantenere una buona igiene orale, spazzolando i denti almeno due volte al giorno e usando il filo interdentale, può aiutare a ridurre il rischio di infezioni alla gola. Evitare il fumo. Il fumo di tabacco irrita la gola e può aumentare il rischio di infezioni. Se sei un fumatore, cercare di smettere o ridurre il consumo di sigarette può essere vantaggioso. Limitare l'esposizione ai germi. Se ti trovi in locali chiusi e frequentati da più persone, facilita il ricambio d'aria, aprendo frequentemente porte e finestre. Idratazione. Mantieni una buona idratazione bevendo abbondante acqua. L'umidità aiuta a mantenere la gola umida, e può ridurre il rischio di irritazione. Uso di umidificatori. In ambienti secchi, l'uso di umidificatori può aiutare a mantenere l'aria umida e prevenire l'irritazione alla gola. Prima di continuare con gli altri consigli per prevenire l'insorgere del mal di gola, ti invitiamo a mettere un like e a iscriverti, per rimanere aggiornato su tutti i nostri contenuti dedicati alla salute e al benessere. Contiamo sul tuo sostegno per far crescere il nostro canale. Ecco gli altri consigli utili a prevenire il mal di gola. Evitare l'esposizione a sostanze irritanti. Cerca di evitare l'esposizione a sostanze chimiche irritanti nell'aria, come inquinanti atmosferici o vapori tossici. Alimentazione equilibrata. Una dieta equilibrata e ricca di vitamine e minerali, può rafforzare il sistema immunitario e aiutare a prevenire infezioni. Vaccinazioni. Ricevi le vaccinazioni consigliate, come il vaccino antinfluenzale, che può aiutare a prevenire infezioni respiratorie che possono causare mal di gola. Gargarismi con acqua salina. In caso di gola irritata, fare dei gargarismi con acqua salina tiepida, può contribuire a ridurre l'irritazione. Evitare bevande e cibi irritanti. Alcuni cibi e bevande molto caldi o molto freddi, così come cibi speziati o acidi, possono irritare la gola. Evitare il consumo eccessivo di tali alimenti, può aiutare a prevenire il mal di gola. Riposo adeguato. Assicurati di avere un sonno sufficiente, e di prendere il tuo tempo per recuperare quando sei stanco. Il riposo adeguato è essenziale per un sistema immunitario sano. Ricorda che non sempre è possibile prevenire completamente il mal di gola, poiché le infezioni virali e batteriche possono verificarsi inaspettatamente. Se queste raccomandazioni dovessero tuttavia rivelarsi insufficienti, e il mal di gola dovesse presentarsi, è buona cosa iniziare a trattare la condizione sin da subito. Troppe volte infatti, si attende nella speranza che il disturbo sia solamente passeggero e che se ne vada via da solo. Se il mal di gola persiste o si accompagna ad altri sintomi gravi, consulta un medico per una valutazione adeguata. Grazie per averci seguito fino a qui. Ci vediamo al prossimo video su salute e longevità. Il benessere fisico è la chiave per una mente serena. Impara con noi come promuovere il tuo benessere globale.